Sto morendo e mi sto divertendo. A dirlo è Randy Pausch, un insegnante di informatica del Carnegie Mellon University che l'anno scorso, in primavera, ha scoperto di avere un cancro al pancreas. Ha deciso di smettere di insegnare, di passare con la sua famiglia, i suoi tre figli, sua moglie, gli ultimi mesi di vita e ha fatto l'ultima lezione all'università. In quell'università c'è una tradizione per cui quando uno smette di insegnare fa un'ultima lezione come se fosse l'ultima della sua vita, beh, per Randy Pausch questa era veramente una possibilità. Ho ascoltato questa lezione che è stata filmata e messa su YouTube e ho trovato assolutamente straordinario il fatto che invece di essere quello che ci si aspetterebbe in fondo, una sorta di testamento comunque all'insegna, certamente non dell'allegria, beh, mi sono trovato davanti a un personaggio che sprizza vitalità da tutte le parti, che fa ridere, che riesce a insegnare a tutti sostanzialmente come stare al mondo, cioè come stare al mondo gioiendo e avendo la possibilità, insomma, di essere felici dell'esistere, felici del fatto di esserci, felici di guardarsi in giro. I don't know how to not have fun, right? I'm dying and I'm having fun. And I'm going to keep having fun every day I have left, because there's no other way to play it. So my next piece of advice is you just have to decide if you're a Tigger or you're an Eeyore. I think I'm clear where I stand on the great Tigger-Eeyore debate. Dopo questa lezione filmata e messa su YouTube, che fra l'altro è stata vista, pare, da più di 6 milioni di persone, è nata con delle aggiunte l'esperienza di un libro, l'ultima lezione dell'East Lecture in questa forma, da cui la diffusione in fondo di un messaggio di speranza, intendiamoci bene un messaggio laico, perché qui non si tratta assolutamente di una persona che faccia un discorso religioso, è un discorso condivisibile assolutamente da tutti, è uno sguardo sereno alla vita, uno sguardo sereno all'esistenza. Il 18 maggio 2008, quindi otto mesi dopo questa lezione tenuta all'università, Randy Pausch è stato ancora invitato a parlare ai laureandi di questa università. Ha fatto un discorso di sei minuti e mezzo, molto brillante, molto bello, in questo caso molto serio, non c'era niente da ridere, filmato e messo ancora su YouTube. In questo discorso dice agli studenti che la cosa fondamentale per la propria vita e del suo augurio è la passione, quindi la passione della vita e il vero amore. Fra l'altro dice, ho aspettato fino a 39 anni per sposarmi perché dovevo aspettare a lungo per trovare la persona la cui felicità contasse più della mia e poi fra gli applausi se ne va con la moglie in braccio. Questo personaggio qua scardina secondo me completamente quello che normalmente noi ci diciamo pensando alla morte di amici o alla nostra morte ed è una grande e bella lezione. Noi apparteniamo a un'epoca che ha in qualche modo consumato le parole attorno alla morte. La morte e il processo del morire, come dire, si sono impoverite di parole, rimanendo e restando nella loro crudezza, come dire, il segno di un destino a cui alla fine non possiamo trovare rimedio. Questo processo che è cominciato naturalmente secoli fa e che appartiene tutto intero alla storia dell'Occidente nasceva da una illusione, l'illusione che era quello che si potesse in qualche modo sconfiggere la morte, si potesse in qualche modo farne a meno o renderla quell'incidente attorno a cui si possa trovare tecnologie adeguate per in qualche modo prevenirlo, evitarlo. L'antichità ha infinite testimonianze di dolore e di disperazione naturalmente di fronte alla fine della vita, ma ha anche infinite testimonianze di un modo di riintegrare, di raccontare questo momento, questa stagione degli addii da questo mondo dentro tutto il percorso della vita di un uomo. Io ho l'impressione che molto delle nostre paure, della nostra incapacità di fare come ha fatto questo professore universitario nasce proprio dal fatto che non abbiamo più, come dire, una giusta grammatica, un giusto lessico per dialogare con questo momento della vita, dico, perché la morte bisogna pur affermarlo, non è qualcosa che sta fuori, il morire non sta fuori la vita, sta dentro la vita, solo che è uno dei momenti crudi, uno dei momenti di verità, se vogliamo, uno dei momenti per cui qualche cosa dell'abitudine, della quotidianità, qualcosa che ritenevamo in qualche modo certo, viene a essere portato alla dimensione della sua fragilità e quindi a richiamarci la nostra stessa fragilità. Ecco allora che questo professore fa una lezione magnifica, in cui chiama anche al sorriso e chiama senza, come dire, senza retorica, senza retorica, con grande semplicità e senza nemmeno un richiamo ai temi abituali su cui questo dialogo con la morte potrebbe essere ristabilito, che sono i temi dell'aldilà, i temi della fede, che naturalmente appartengono a un orizzonte che non chiude la strada ma la illumina oltre il momento finale. No, lui richiama in qualche modo con grande eroismo, se volete, ecco, sono degli eroi, degli eroi dei nostri giorni, degli eroi della quotidianità dei nostri giorni. Richiama un dato molto semplice, richiama il dato che si può finire, si può terminare, si può terminare una lezione, si può terminare un corso di vita, mantenendo alto il sentimento del dolore, perché non è maniacalità o ipomaniacalità o fuga da questo incontro con la fine di una dimensione, ma senza tutto questo la possibilità di ricollegare questo momento a, come dire, al ritmo della vita, alla melodia della vita, che è anche fatta di scherzo, di umorismo, di ricordi, che è fatta anche di tutte le cose che ci stanno attorno e che non devono essere adombrate o rese morte prima del tempo, ma che tutte queste cose ci attorniano dalle cose più care, dalle cose più intime, alle cose più materiali, ci attorniano perché queste fanno, come dire, il paesaggio della vita. Ecco, reinserire come ha fatto quest'uomo e altri, naturalmente, altre testimonianze, questo evento della vita dentro il paesaggio, il ritmo, la melodia della vita quotidiana è, credo, uno splendido esercizio di umanità. Ecco perché, credo, molte persone, migliaia, milioni di persone si sono collegate su questa conferenza, su questa lezione universitaria per cogliere una saggezza che, ho l'impressione, abbiamo tutti molta fatica a recuperare. Le scafandre e le pavillon, lo scafandro e la farfalla. È la storia di Jean-Dominique Boby, scritta da lui, ma intendiamoci bene, dire scritta in questo caso vuol dire qualcosa di molto particolare. Jean-Dominique Boby, caporedattore di Elle, a Parigi, nel 1995 ha un ictus che lo porta a quella sindrome locked-in che significa sostanzialmente paralisi praticamente completa. Gli rimane la possibilità di battere una palpebra, la palpebra sinistra, con la quale può dire sì con un battito di palpebra e no con due battiti di palpebra. Quindi con una tecnica poi di suggerimento di lettere eccetera riesce a scrivere questo libro che esce nel 1997. Ma quando esce il libro, proprio in pochi giorni dall'uscita del libro, Jean-Dominique Boby muore. Dieci anni dopo Schnabel, un pittore regista americano, realizza il film di questa storia. È assolutamente straordinario questo film perché riesce, con una tecnica cinematografica, per l'amor del cielo, non assolutamente nuova, ma a farci per qualche istante vivere o intuire perlomeno quella che è stata l'esperienza di due anni di vita di questo autore di Scafandro e la Farfalla. Nel senso che il film è girato, per esempio, i primi 20 minuti in soggettiva, cioè vuol dire che uno è come se fosse con la telecamera all'interno dello scafandro della vita di Jean-Dominique Boby. Quindi vede soltanto attraverso un occhio che anche quello era di per sé bloccato, quindi lui non aveva la possibilità di girare lo sguardo, ma con una palpebra che si chiude con una sorta di obiettivo, con una sorta di otturatore che chiude e apre la possibilità di comunicazione col mondo. Bene, in questa storia che ha tutte le connotazioni del dramma e della tragedia, si legge in filigrana un'esperienza sostanzialmente di speranza, di capacità di guardare in modo sereno alla vita. Sembra francamente incredibile, impossibile, eppure questo è vero. Anche qui siamo di fronte a una, certamente a una personalità straordinaria, ma comunque una persona che ha trovato i codici giusti per tradurre il significato dell'esistenza. E intendiamoci bene, questo non era prima dell'incidente, insomma, Jean-Dominique Boby era uno a cui piaceva vivere, piacevano le donne, piacevano le belle auto, eccetera, faceva la cosiddetta bella vita. Con questo incidente questa persona guarda al mondo, guarda la sua realtà, quella dei suoi figli, con una lettura di una profondità e di una capacità assolutamente straordinaria di lungimiranza. Per cui diventa anche qui una sorta di bellissima lezione di vita. Ma di nuovo siamo di fronte a questo tema grande di come fare, di come rendere vitale la morte, come renderla, di come fare della morte un momento della vita. Che vuol dire che, come dire, la morte non è quella parca che con la sua falce ti cancella, ti annulla, la morte è il morire nella sua dolorosità estrema. Se ne parla, e noi ne parliamo oggi qui, senza essere in quella condizione. Per cui ne parliamo con la distanza che deve essere usata anche con molta umiltà. Perché una cosa è parlarne, una cosa è starci dentro una condizione come quella. Ma se ne siamo fuori, per ora, se possiamo parlarne con quello sguardo, con quella piccola distanza, in qualche modo, che separa le parole dagli eventi, beh, allora possiamo immaginare che quella è lo sforzo da farsi, che altri hanno già fatto prima di noi, che la storia del nostro Occidente ha già fatto. Per cui io dico sempre, prima di inventare cose nuove, andiamo a scoprire cosa è già stato fatto attorno a questo bisogno, problema di rendere vita, di rendere la vita alla morte, senza la quale la morte sarà sicuramente il buio, e sarà sicuramente l'oscurità, e sarà sicuramente il vuoto. Ecco allora che nel lavoro sulla farfalla e lo scafandro si colgono due cose. La prima cosa, si coglie il gesto creativo di questo uomo in relazione alla giornalista con cui scrive. Di nuovo si può fare questa operazione di rendere viva la morte attraverso l'altro. Questo mi pare un esempio fantastico, formidabile. La giornalista che interpreta il battere delle ciglia, delle palpebre, che sono l'unico mezzo di comunicazione di quell'uomo, ma in quel dialogo, quasi dialogo muto, dialogo fatto di segni che per noi spettatori esterni sono quasi invisibili, ecco in quel dialogo avviene questo miracolo. Dunque posso dire, se il mio obiettivo è quello di dire facciamo qualcosa per rendere viva la morte, questo lo si può fare soltanto nell'incontro con l'altro. Questo altro può essere un uomo, un altro uomo, questo altro può essere Dio naturalmente, può essere l'incontro con le figure dell'aldilà, ma certo c'è bisogno di un altro. Un altro con la A minuscola o con la A maiuscola, come si vuole, ma senza questo altro la nostra solitudine sarebbe tale e la nostra disperazione tale da impedirci di accedere a questa sorta di miracolo, che è un vero miracolo della vita, il rendere viva la morte. E allora, e questa è la prima cosa che colpisce, nella scrittura, nella trasmissione e poi nella scrittura di questa vicenda. Poi c'è un'altra cosa che io vidi non nel film che non ho visto, il film presentato a Cannes l'anno scorso, ma che vidi nel documentario che venne fatto allora attorno a questo uomo. C'è una scena che ho ancora ben impressa, quando la giornalista dice, siamo in Normandia, perché è la clinica dove quest'uomo è ricoverato, sta al nord della Francia, quando la giornalista dice, adesso vado sulla spiaggia, vado in un piccolo ristorante della spiaggia, a mangiare alle ostriche. Bisogna ricordare che il personaggio che è impedito in tutte le sue funzioni era un gran viveur, un uomo che amava vivere, che amava le belle macchine, le belle donne e il buon cibo. Un uomo brillante, intelligente, gioioso. E in quel momento, ricordo, ci fu un velo di nostalgia, un velo di dolore, come se, e lui lo esprimeva a suo modo, come dire, ecco, ho fatto con te questo percorso, ho scritto con te questo libro, tu mi sei stata di fondamentale aiuto perché io non morissi prima del tempo, perché non bisogna che la morte nera prenda il possesso sulla morte bianca, la morte della vita, la morte nella vita, la vita nella morte. E però non posso sfuggire alla nostalgia dolorosa di quelle ostriche, di quel mare che adesso tu vedrai e io non potrò vedere nel villaggio, in quel villaggio della Normandia. Ecco, io lo ricordo ancora come un momento per me spettatore doloroso e questo mi ha richiamato che ogni discorso che noi possiamo fare sui tempi finali della vita, sulle grandi malattie, in cui possiamo certamente ricordare gli eroi come quel professore, possiamo ricordare gli esempi esemplari, come il caso di Le Papillon e lo Scafandro, possiamo però anche ricordare eventi molto più, molto meno eclatanti e molto meno spettacolarizzati, come spesso i tempi finali della vita di chi ci sta vicino e che riesce con grande potenza, forza, miracolosa, miracoloso eroismo a affrontare la fine con la testa alta o con grande umiltà. Ecco, noi possiamo sempre ricordare questi, ma dobbiamo anche sempre ricordare che quel luogo è un luogo rischioso, è un luogo che non è mai esente, non potrà mai essere esente dal dolore che già ci appartiene fin da bambini, dal dolore della perdita, della perdita della cosa amata, perché se noi amiamo la vita, e Bobbi amava la vita, ma l'amiamo la vita, e l'amiamo nelle piccole cose, l'amiamo nelle persone care che si stanno attorno, l'amiamo nei nostri amici, nei nostri compagni di lavoro, ma l'amiamo anche nelle ostriche che mangiamo, o nel vino che sorseggiamo alla sera, o nei colori dei nostri vestiti, o nelle penne stilografiche, se amiamo scrivere ancora con le penne stilografiche, la vita l'amiamo nei dettagli della vita, ecco, tutte queste cose noi sappiamo che lì, in qualche modo, entreranno in quella zona in cui lentamente si spegneranno, beh, questo spegno, questo spegnimento, certo ha bisogno di eroi, di piccoli eroi, ma ha bisogno anche dell'umiltà di accettare che ci potrà sempre essere, ci dovrà sempre essere, in questo saluto alla vita, un momento di grande nostalgia e di grande tristezza, ed ecco allora che, in realtà, se morire si muore sempre da soli, non bisogna mai arrivare, non si dovrebbe mai arrivare, a quella solitudine da soli, io ricordo sempre quando un mio carissimo amico morì, mi disse, adesso ti saluto, consapevole che quella notte sarebbe morto, adesso ti saluto, ho salutato tutti, sono arrivato a questo estremo momento, che mi troverà solo, sono arrivato però in grande compagnia, e questo è uno dei modi più straordinari, credo, per lasciare questa vita. Il tema del lutto è stato trattato molte volte nella cinematografia, nel 2007 sono usciti, in particolare ho visto due film interessanti, sono due film per il grande pubblico, quindi due film con attori conosciuti, ma mi sembra due prodotti interessanti per quello che è la comprensione di questo percorso inevitabile dopo la morte di un proprio caro. Si tratta di P.S. I Love You e Thing We Lost in the Fire, che significa le cose che abbiamo perso nell'incendio. Sono due film che ci accompagnano, direi in modo sereno, anche se travagliato, in quello che è un percorso, e da questo punto di vista diventano, pur essendo persino divertenti, un'occasione direi quasi pedagogica per capire di più, per capire che cosa potrebbe essere davvero un sano percorso di lutto. Il lutto innanzitutto è un'esperienza oltre che normale, è un'esperienza vitale, e questo naturalmente rende a tutto questo tema la sua dimensione quasi un po' scandalosa. Quando si dice con una battuta a che cosa serve morire, normalmente noi tendiamo a dire a nulla, anzi serve a portarci dolore, a portarci sconforto, e invece morire serve per vivere. Sembra una, come dire, una frase ad effetto, ma la vita di un uomo, la vita di un uomo senza i lutti, che sono esattamente la rappresentazione, l'esperienza minimale delle tante piccole morti che ci accompagnano da quando siamo nati, da quando appariamo su questa terra fino alla fine del nostro viaggio. Ecco, queste piccole morti che costruiscono la nostra vita. senza queste piccole morti noi saremmo dei viaggiatori ciechi, dei viaggiatori muti, dei viaggiatori sordi dentro il viaggio della vita, probabilmente dei viaggiatori immobili e dunque dei viaggiatori che non colgono più in realtà il percorso, il senso del nostro viaggio. saremmo allora sì morti. Ecco, allora la psicologia ci ha insegnato molto bene come fin da quando siamo bambini una delle grandi acquisizioni che un bambino deve fare per costruire proprio anche il suo mondo interno, per costruire il suo mondo psichico, per costruire, come dire, la dimensione affettiva che lui pone, quasi fosse una sorta di di coperta che pone sul mondo, di colore del mondo, quella che i tedeschi chiamano la Stimmung, la voce del mondo, che parte dalla voce della nostra interiorità. Ecco, tutto questo nasce attraverso un momento di dolore, perché il dolore appartiene a questo percorso, ma un dolore creatore, non un dolore che ti annichilisce. Certo, c'è anche il lutto che ti annichilisce, che è un lutto non fatto, mal fatto, un lutto evitato, un lutto negato, ma quando il lutto è fatto correttamente dall'individuo e dalla collettività, perché spesso i grandi lutti hanno bisogno degli altri. Non basta pensare come in una mentalità troppo individualista che basta farlo da sé. Certo, a volte dobbiamo alla fine farlo da noi stessi nel nostro foro interiore, ma a volte abbiamo bisogno degli altri, come un palcoscenico dentro il quale il lutto si realizza, per esempio, attraverso tutta una serie di rituali, una serie di parole, di racconti, di incontri. Ecco, fin da bambino abbiamo capito che cresciamo nella perdita, nella perdita. Perdiamo i nostri genitori perché abbiamo bisogno di crescere in autonomia, li perdiamo quando un piccolo bambino sente la mamma andarsene, non sa se la mamma tornerà. sa però, per cavarsela, che può cominciare a usare un linguaggio capace di sostituire la mamma in carne d'ossa, quella che gli dava il latte. Questo linguaggio che fa da fondo e da fondamento alla crescita umana, questo linguaggio appartiene, sì, come primo elemento al grande processo di simbolizzazione che un bambino mette in atto e che poi costruisce bene o male come dire la grammatica di fondo della vita senza la quale saremmo malati. Bene, questa dimensione simbolica in cui un oggetto, una cosa fondamentale, vitale, viene sostituita da una parola. Bene, questo è il primo effetto di un lutto che un bambino deve cominciare a fare. E beh, sappiamo che a volte questo non riesce, sappiamo che a volte questo è fatto in modo imperfetto e la vita poi lo dirà, dirà, lascerà le tracce di questi lutti non fatti in modo corretto o lutti parziali. Questo per dire, insomma, che il lutto, che è quell'operazione psichica che sostituisce le perdite con altre cose. Dunque, un'operazione fortemente creativa quando è fatto bene, una creazione che, lo ripeto, non esclude il dolore, anzi il dolore e la sofferenza ne è quasi in qualche modo come dire l'energia. Il lutto non lo si fa nella gioia, non lo si fa nella frenesia, non lo si fa nella festa. Il lutto lo si fa nella parte tragica della festa, nella parte dolorosa della festa per riconquistare un altro oggetto che, per sostituire la cosa perduta con qualcosa d'altro. In questo continuo processo di, come dire, di metaforizzazione della vita, di sostituzione della vita, perché noi da quando siamo nati al giorno che ce ne andiamo continuiamo, bene o male, a oscillare tra il bisogno di tenere le cose ma l'ineluttabilità di perderle e la necessità di riconquistarle, ricostruirle attraverso il nostro linguaggio, un linguaggio che però carico di affetti in modo che in qualche modo questo viaggio nel mondo non diventi smarrimento o non diventi deserto. Un salto indietro nel 1994 per ricordare un incontro straordinario secondo me che ha commosso le, credo, 800 persone che erano presenti a Trevano il 27 novembre 1994 ad ascoltare il vescovo Eugenio Corecco che sarebbe morto dopo alcuni mesi, che era molto ammalato e che ha parlato con una apertura e facendo diventare fatto pubblico la sua malattia, il suo stato di salute che stava degenerando. Possiamo capire che la malattia è in ultima analisi ma veramente una grazia perché ci cambia interiormente ma l'accettazione è il presupposto che dobbiamo avere dentro di noi ed è il presupposto che il Signore ci può dare come grazia che da soli non possiamo realizzare totalmente. Una registrazione video che ancora oggi è su DVD e che noi mettiamo a disposizione e un libretto con la trascrizione di queste cose. Il Biscopo Corecco fra tutta una serie di bellissime considerazioni che ci aveva fatto aveva detto qualcosa che ha lasciato certamente il segno. Era questo grosso modo la malattia grave che ti porta alla morte può anche essere una grazia ma aggiungeva questo lo sai solo dopo. Assolutamente perché dirlo prima vorrebbe dire falsificare i dati di fatto vorrebbe dire non riconoscere che in questo processo del morire è possibile anche come dire gridare all'ingiustizia gridare al perché tocca a me o a un mio caro gridare a perché questo mondo è così crudele che mi dà le cose per poi togliermene ed è anche legittimo quel momento di rabbia quel momento di tentativo di negoziazione quasi se dovessi negoziare con la morte come nel famoso settimo sigillo di Bergman come dire ancora un momento lasciami ancora un momento ecco quindi io credo rispetto molto il grido ma anche il grido di rabbia quello che oscura i cieli quello che in qualche modo rende quell'attimo non un momento di salvezza ma un momento di di oscurità tuttavia se accetto questo se se dico che forse questo è quello che possiamo incontrare io accetto anche che che ci sono testimoni che incontro anche nella mia vita professionale oltre che nella mia vita di uomo che ci sono incontri che ci sono testimoni di qualcosa d'altro ci sono testimoni di un altro modo di trasformare questa rabbia questa sofferenza questa oscurità trasformarla beh Correcchio chiamava in grazia trasformarla in dono è difficile dirlo forse si può dire solo dopo o si può dire solo indirettamente il dono di riconquistare se lo si fa e torno a dire da soli quasi non è possibile se si riconquista tutti i passaggi della vita se si li rimettono insieme se si fa una se si compone un racconto dentro la quale questo racconto io ho trovato il senso del mio viaggio è un'occasione spesso come le malattie che sono l'occasione ahimè si dice sempre perché devono venire loro a permetterti questo ma sono spesso l'occasione di fare dei conti di vedere il mondo diversamente bene il processo del morire si è accompagnato ecco perché parlo sempre di una solitudine accompagnata in quel processo allora si diventano come dire la possibilità di scrittura non come Bobin nessuno è obbligato a scrivere un libro ma si scrivono si scrivono trame storie nell'aria nelle parole che volano negli sguardi che si scambiano con le persone che ti stanno accanto sono tutte scritture e queste scritture lasciano un segno queste scritture lasciano memorie ed è chiaro che tu nel momento in cui muori in cui te ne vai forse hai la soddisfazione o hai la consolazione di rimanere iscritto da qualche parte la storia dell'uomo e dei suoi riti funerari ha raccontato in tanti modi questo bisogno di rimanere iscritto da qualche parte forse forse è questo che dell'umano dobbiamo salvare il fatto che non si disperda nella nella mera sabbia ma che pur tornando là da dove siamo venuti dalla terra o dai cieli però che il nostro itinerario sulla terra piccolo o grande che sia stato abbia permesso di scrivere una storia ecco questa garanzia di scrittura questa sì certo è una grazia è una grazia che ricevi è una grazia che doni dunque c'è qualche cosa al di là dell'urlo e del grido di rabbia contro i cieli che si sono annebbiati c'è anche questa dimensione del dono ricevuto e donato che questo momento estremo può offrirti certo siamo in dimensioni che come dicevi prima separano fortemente le parole che sto dicendo o che sto pensando dagli eventi e questo iato è uno iato spesso difficile da colmare è uno iato che noi tentiamo disperatamente di colmare i poeti l'hanno tentato hanno tentato gli artisti hanno tentato il cinema ha tentato insomma tutta la grande creazione ha tentato proprio di colmare questo iato tra il vissuto di chi è e di chi invece solo guarda di chi è e di chi guarda e questo è però uno dei tanti destini che tocca l'uomo e di chi è Grazie.